Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gatsub Drums. Siamo arrivati al Black Friday. Il Black Friday a me piace sempre vederlo come un momento di opportunità, un momento per crescere, un momento per lavorare su noi stessi e soprattutto per investire su noi stessi. Ci sono vari modi per farlo, un modo è sicuramente Vibely, altri modi sono i miei corsi Gatsub Drums. Oggi voglio proprio fare questa divisione tra Vibely e corsi Gatsub Drums perché sono due cose, diciamo, tra virgolette, diverse. Uno un po' più orizzontale e l'altro un po' più verticale. Adesso vi spiego perché. Vibely è una piattaforma di didattica musicale che ho creato circa tre anni fa con all'interno più di 150 corsi, 45 insegnanti, un po' in stile Netflix, diciamo. Quindi fai l'accesso e hai tutti i corsi che vuoi all'interno con ovviamente aggiornamenti costanti ogni settimana. Aggiornamenti significa nuove lezioni ogni settimana. Mentre i corsi Gatsub Drums sono più verticali verso un contenuto, verso un argomento perché se vuoi studiare ad esempio la coordinazione e il tuo obiettivo è migliorare la coordinazione in vari generi, perfetto, c'è un corso che è coordinazione totale che ti permette di migliorare veramente quell'aspetto. Quindi molto più verticale, mentre Vibely con tutti quanti questi corsi, tutti questi insegnanti, molto più orizzontale. Partendo da Vibely, come vi ho detto, 150 corsi, 45 insegnanti, giusto per farvi qualche nome, Filmer, Federico Paolovic, Jacopo Volpe, Max Furian, Daniel Fasano, Fabio Vitiello, ce ne sono veramente tantissimi, Stefano Bagnoli anche, che vanno a parlare e vanno a spiegare quello che amano. Quindi se c'è il batterista metallaro spiega metal, se c'è il batterista a cui piace tutta la questione ritmica, tecnica, eccetera, spiega quello. È per questo che ci sono così tanti insegnanti perché ognuno fa ciò che ama. Vibely è disponibile sia su sito ma anche su app e all'interno potete scegliere di seguire il corso che volete. Potete scegliere di seguire un corso per genere, come ad esempio rock, jazz, metal, blues, pop. Potete scegliere un argomento più tecnico, quindi lettura, teoria, tecnica, coordinazione. Potete scegliere quello che volete e andare a seguirlo con il maestro, col vostro maestro preferito. Inoltre anche lezioni live in cui ogni utente può richiedere, fare domande all'insegnante e avere riscontro subito, perché gli verrà data la risposta subito direttamente in live. Questo è Vibely. La cosa bella di Vibely secondo me è il metodo di studio che si riesce a creare proprio con questa piattaforma che è a 360 gradi sulla musica. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Passando ai miei corsi Gastube, come vi ho detto voglio farvi un focus su ognuno dei corsi per farvi capire qual è l'argomento e come è strutturato, partiamo, dato che ne parlavamo prima, della coordinazione totale. Coordinazione totale appunto si basa su coordinazione e indipendenza, al suo interno è diviso per generi, quindi si parte dalla coordinazione fondamentale e si arriva poi a studiare la coordinazione nel rock, nel pop, nel funk, nel jazz, eccetera, eccetera. Questo è appunto un corso completamente dedicato col focus sulla coordinazione dei quattro arti che ti dà un metodo per poter studiare veramente la coordinazione in qualsiasi contesto, qualsiasi contesto. Quindi la cosa bella di questo corso secondo me è che io do la base per poter suonare in realtà il 95% delle canzoni esistenti, ma poi ognuno, partendo di lì, può andare a implementare ciò che vuole, doppio pedale oppure piatti strani, in base alla coordinazione che serve, in base a quello che suona, può veramente andare a crearsi un mondo per quanto riguarda la coordinazione, partendo dalla base fino alla coordinazione estrema. Andando avanti, Linear Box. Linear Box è un corso completamente dedicato ai fill in stile linear, quindi agli incastri tra mani e piedi. Avete presente quando vedete quei batteristi che vanno ai 2000 all'ora, che mettono mani e piedi insieme, che non si capisce che cosa succede? Ecco, lì stanno facendo dei linear. In realtà i linear sono molto di più, non sono solamente velocità, ma sono anche musicalità, quindi voglio spiegarvi, partendo dalle basi, che cosa sono i linear, quali incastri tra mani e piedi si possono fare e soprattutto spiegarvi quanto potete utilizzare i linear all'interno di ciò che suonate, perché poi sono tra i passaggi più versatili che esistano, quindi anche qua sarà diviso ovviamente per difficoltà, qui sarà diviso per batteristi, quindi andremo ad analizzare i batteristi, prendere le cose più importanti e più efficaci che ci sono e trasformarle per creare dei nostri fill. Tra i batteristi che andremo ad analizzare ci saranno Benny Greb, Kipcarloch, Mike Portnoy, Vin Nicola Iuta, quindi grazie all'analisi di questi batteristi potremmo creare veramente un nostro vocabolario di fill linear. Batteria Rock invece ovviamente è un corso tutto dedicato a rock che parte veramente, veramente dalle basi e impronta tutto quanto sul rock, quindi andremo a vedere i fill e i groove principali di questo genere, ovviamente tutto in modo pratico, questa è una cosa che in realtà vale per tutti i corsi, ma tutto in modo pratico, nel senso studio una cosa perché la posso applicare subito sulla batteria e la posso applicare subito sulle canzoni, su ogni corso, in ogni corso ci sono play along, ci sono basi, ci sono tutti gli spartiti con le trascrizioni, eccetera, quindi questo era giusto per farvi capire una parentesi su tutti i corsi. Batteria Rock appunto si basa sul rock, quindi andiamo a studiare dalle basi, tutti i groove e tutti i fill del rock, passando per la lettura che è comunque anche importante e soprattutto vi permette di leggere tutto quello che c'è scritto all'interno delle trascrizioni, tutto in modo super pratico, con i brani più famosi del rock. Rudimenti, tecniche, applicazioni è un corso invece in cui andiamo a studiare la tecnica, i rudimenti e le applicazioni. Queste tre cose insieme ci permettono di andare ad ampliare il nostro vocabolario, ma soprattutto la nostra consapevolezza sullo strumento. Quindi partiamo dalla tecnica, andiamo a studiare le tecniche principali, partiamo dall'impugnatura, andiamo poi a studiare la push and pull, la meller technique, il free stroke, tutte queste tecniche fondamentali per il batterista, andiamo ad applicare queste tecniche ai rudimenti, quindi studiamo tutti i rudimenti principali per un batterista e questi rudimenti andiamo poi ad applicarli sulla batteria. Perché questo? Perché studiare il rudimento e basta? Significa fare un esercizio. Fine. Se quell'esercizio noi andiamo a trasportarlo sulla batteria, invece possiamo creare qualcosa di veramente interessante e soprattutto efficace da utilizzare poi quando andiamo a suonare poi le canzoni, andiamo a suonare con la nostra band. Infine, padrone del tempo invece è un corso che si basa sul timing e sulla consapevolezza. Quindi, che cosa vuol dire consapevolezza? Vuol dire avere perfettamente in testa che cosa bisogna fare in un certo momento. Cosa vuol dire? Vuol dire andare a inserire le note che suoniamo sulla batteria nel posto giusto, al momento giusto. Padrone del tempo è un corso che infatti lavora tantissimo sul timing delle singole note, lavora tantissimo sull'interplay tra i musicisti, in modo tale che nel momento in cui andrete a suonare con la vostra band sarete perfettamente a tempo e quindi darete tiro a tutto quello che suonate sia col metronomo, sia senza metronomo. Quindi con questo ragazzi il video può finire qua. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia anche un attimino fatto capire tutto quanto, quindi sia per quanto riguarda Vibe, sia per quanto riguarda i miei corsi. Se c'è qualsiasi domanda, mi raccomando, scrivetemi qui sotto. Come vi ho detto, la cosa che piace a me in questo momento è pensare questo momento appunto come un'opportunità, un investimento su noi stessi ovviamente, sulle nostre capacità e sul nostro lavoro o sulla nostra passione. Quindi con questo appunto posso finire qua il video. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link sia per Vibe, sia per Gastube che vi servono con tutti i vari sconti. Buon Black Friday e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!